Eh, questo è Vicolo Riccardi, parla di una casa e di tutto quello che ci succedeva. Vi succedeva all'interno della collega. E la cosa bella è che, questa la voglio dire, però mi riprende, però insomma non c'era mia socia, era Vicolo Riccardi. Tu, 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 tu. Guai Ai genitori senza idee Miseri Io smusicamo a tutti che Io metto le pantofole Cincischio con le briciole Dalle persiane sparaccate L'ambo della tensione qui Qui Che razza di paese dico io Ci dici Che osano non oltre il tuo Si staglia il campanile incorniciato Il solito barbone secchinato Ma lui non parla appena andato Il soprannome che gli ho dato a Ralph Qui 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 L'importante è che non cali la palpebra, questa è una cosa fondamentale.